Ehi la gente, benvenuti in questo nuovo video, oggi siamo tornati su Brawl Stars e oggi siamo tornati visto che l'update si avvicina ragazzi, lo sappiamo che a inizio settembre è previsto l'update di Brawl Stars, non sappiamo ancora quando di preciso ma ho fatto un video riguardo quindi se volete potete andare a recuperare, però vabbè riparleremo meglio più avanti di Brawl Talk. Adesso cominciamo a fare delle ipotesi, parliamo di concept e parliamo di una cosa di cui ho parlato male giusto nel video dell'altro giorno, ovvero questo, il video delle cose più inutili di Brawl Stars ragazzi, che però ha un suo senso, non è un video volto all'hating, è un video volto a capire quali cose su Brawl non funzionano effettivamente e che magari potrebbero essere anche delle ottime idee da migliorare per i prossimi update. E mi riferisco nello specifico alla fama, c'è un sacco di roba da dire quindi prima di cominciare come sempre supportate il video come con un bel like, con l'iscrizione al canale e col codice ferro nello shop. Quindi mi comincio a raccontarvi un pochettino di cose, tanto nel frattempo starete vedendo i gameplay sottofondo della sfida della tromba che c'è stata di recente e che ovviamente abbiamo stravinto, ormai con tentativi infiniti ragazzi si vince a mani basse. Per questo video ci baseremo su un concept di Reddit, ovviamente ve lo lascio in descrizione ragazzi per tutte le fonti. Allora, qui vengono mostrate semplicemente le 5 fame che ci sono al momento attuale su Brawl Stars, ok? Questo video assume molto significato dopo il recente video che ho realizzato sul raggiungimento effettivamente dell'ultima di queste 5 fame, ovvero quella solare. Il video è questo, se ve lo siete persi ragazzi è andato a recuperare perché è tanta roba questo record. E quindi insomma sappiamo che quest'ultima tipologia di fame è stata raggiunta. Saturno si comincia a vedere, Marte è molto comune ormai e la Luna e la Terra proprio ragazzi ce l'hanno tutti, tutti quanti. Quindi andiamo avanti, vediamo un pochettino. Ecco, la prima cosa che in questo concept viene proposta è dare effettivamente delle ricompense ragazzi. Ed è proprio la cosa che abbiamo criticato nel video che vi menzionavo prima, quello delle cose inutili. Cioè che la fama effettivamente è solo un modo per flexare fondamentalmente, ma da una parte è per flexare, l'altro lato della medaglia è che vi brucia tantissimi crediti. Quindi già che ci brucia tutti questi crediti, perché non dare magari qualche pin, qualche spray, non dico delle gemme, queste gemme qua sotto sono per indicare il valore del pin ipotizzo. Anche perché se venissero regalate gemme, oro, bling, come tanti di voi vogliono effettivamente ricevere, lo so, ragazzi si andrebbe a rovinare l'economia del gioco. Molti non tengono mai in considerazione questa cosa, Frank l'ha già detto in diversi tweet. Tutte quelle migliorie, volte solamente ad aggiungere nuove ricompense, rovinano l'economia del gioco, c'è poco da star lì. E quindi questi pin ragazzi sono stati riproposti ovviamente per arrivare ai livelli, vedete qua ci sono i pin per tutti i livelli di fama luna, per tutti i livelli di fama marte eccetera eccetera. Allora io sinceramente qua aggiungerei del mio, cioè più che andare a mettere dei pin con le stelline e quindi fare praticamente tre pin uguali cambiano solamente le stelline sotto, io magari farei, tipo non so, per il primo un pin effettivamente. Ma senza la stellina, solo col pianeta marte, poi il secondo uno spray e magari il terzo un avatar, ok? Quindi si andrebbe già a diversificare il tutto e sarebbe anche abbastanza carino. Qui ci fanno vedere per Saturno e ovviamente ci fanno vedere per la fama solare. Quello che cambia, come avete potuto vedere, è il costo di questi pin, di questi spray, meglio scusatemi. Ah no, aspetta c'è scritto pin, spray e gemme, ah ma quindi non è il costo, è proprio una tripla ricompensa, mi sembra un po' too much tripla ricompensa, però ok vedi che lo spray comunque c'era, allora io sostituirai semplicemente le gemme con magari un avatar, ok? Che ci potrebbe stare. E ecco ad esempio molto carina qua, l'ultima che anziché essere un sole è effettivamente la stella di Brawl Stars con all'interno la fama solare, quindi già l'hanno diversificata un po', carina così. Ok, allora cercando un pochettino ho trovato quest'altro concept che è di un altro designer, ok? Però effettivamente spiega meglio quello che stavo cercando di dirvi prima. Magari diversificare, non mettere tre avatar uguali, tre pin uguali con la stellina semplicemente che cambia, ma fare un avatar per ogni tipo di pianeta. E magari mettere delle ricompense tipo dei titoli. Qua addirittura hanno pensato a tre titoli, uno per ogni livello di maestria, eridaie di maestria e di fama volevo dire. Però in effetti certi sono carine, non so. Moon Tear, carino questo. Oppure No Gravity, anche molto bello perché giustamente sulla Luna non c'è gravità. La Stella, ok no, sono carine, sono carine. Red Like Mars, anche questo è carino. Insomma, potrebbero prestarsi molto certi titoli. E altra cosa ancora, ragazzi, questo è un concept addirittura non di un altro designer, ma dello stesso che ha fatto il primo che vi ho mostrato poco fa, quindi il primissimo. E tutto questo discorso ampliato per altri tipi di fama, quindi andare proprio a realizzare delle tipologie successive al sole. Quindi qua ad esempio ipotizza la fama galassia, la fama cosmo e la fama god. Allora, non mi piace tantissimo come idea perché la fama, ragazzi, è fino adesso stata strutturata su dei pianeti. Oddio, dei pianeti. Il sole è una stella. Però insomma, su corpi celesti, diciamo così. Si dice così. Non studio astronomia, vi chiedo scusa. Però insomma, magari non ci vedo esattamente questi tre design, però effettivamente ampliare ai pianeti solamente del sistema solare, ragazzi, già in linea abbiamo da vendere. Marte c'è, ok, ho detto l'unico che c'era. Giove, che è gigantesco. Plutone, che appunto potrebbe essere blu, quindi avere un colore simile a questo. Venere, quindi magari qualcosa di più chiaro, come questo qua. Insomma, si potrebbe magari rielaborare un pochettino. Poi ognuno la vede a suo modo. Ovviamente voi potete scrivere qua sotto come ce la vedete voi, ragazzi, se ci vedete più dei design così o effettivamente di altri pianeti. Però il concetto è che queste cose qua vanno in combo. Cioè, si potrebbero realizzare nuove tipologie e dare delle ricompense per levare fame. Quindi puoi avere con più tipologie anche più ricompense. Insomma, avere un discorso che si amplia in maniera esponenziale. Un po' come le maestrie. Infatti, prima ho confuso fame e maestrie, ma effettivamente il discorso che stiamo facendo in questo video, magari qualcuno si ricorda ancora, è molto simile a un video che avevamo già fatto tempo fa. Che era addirittura un video teoria. Non era neanche un video concept. Era direttamente un video teoria perché c'era stato dietro anche un tweet di Frank. O almeno così mi sembra di ricordare un video di 5 mesi fa, quindi lo potete andare a rispulciare. Il video è questo qua. E vi leggo il titolo, giusto per darvi un'idea. Il video si chiama 1.600.000 punti maestria sono pochi. Effettivamente, era un video della serie delle maestrie. Dove ovviamente mi rilasciavo quel dato lì che è il dato di punti maestria che bisogna fare per completare tutte le maestrie. Però di fatto, ragazzi, questo tipo di dinamiche, la maestria, la fama, sono dinamiche che potenzialmente Brawl potrebbe ampliare all'infinito. E soprattutto con piccoli update potrebbe ampliare tantissimo. Perché voi pensate, ora che siamo arrivati alla fama solare, ragazzi, ok, che richiede già, oddio, quanti punti richiede, mi sembra, solo per passare da Saturno solare, tipo più di 20.000, una roba del genere. 24.000, cioè una roba folle. Ebbene, voi pensate ad aggiungere anche solo una tipologia di fama, vorrebbe dire andare a aumentare esponenzialmente questo numero. Quindi già solamente aggiungere un livello di fama solo, potrebbe voler dire robe veramente assurde. Quindi, insomma, veramente l'unico limite è l'immaginazione. Però, insomma, volevo condividere con voi questo tipo di concept perché, fondamentalmente, c'è una grande differenza dal video che vi ho menzionato prima. Il video di prima riguardava le maestrie, che secondo me sono una dinamica che funziona molto bene. Invece qua parliamo di fama, che è una dinamica che, secondo me, al momento attuale su Brawl Stars è un problema. E l'ho detto nel video dell'altro giorno, appunto, quello delle cose inutili. E quindi, paradossalmente, questo tipo di concept io ce lo vedrei molto di più rispetto a quello del video che vi ho menzionato poco fa. Ma, ripeto, questo è tutto quanto il mio parere, sono tutte le mie opinioni, io lo condivido con voi. Condivido con voi il concept più bello che trovo. Soprattutto con un update che si avvicina sempre di più, ragazzi. Probabilmente, voi vedrete questo video nel weekend. Ci sarà settimana prossima, che sarà appunto quella settimana sul chi va là. E poi, la settimana dopo, ragazzi, per forza di cose, si cominceranno a sbucar fuori, a individuare, cominceranno a trapelare le prime notizie sul Brawl Talk. Magari spoileranno la data, insomma, ci daranno sempre quelle chicchettine che a noi piacciono tanto. Quindi, rimanete iscritti, campanellina, codice ferro, lo sapete. Noi ci vediamo presto, un salutone e ciao belli!